Gino Vescio, coordinatore cittadino dei Fratelli d'Italia, qua a Mezzia questa sera per la presentazione della riforma della giustizia organizzata dal tuo partito. E buonasera a tutti innanzitutto. Come ormai nella tradizione dei Fratelli d'Italia in questa fase politica stiamo preferendo dare alla cittadinanza informazioni dirette con i diretti autori, non parlando attraverso i talk ma incontrando le persone e spiegando qual è il nostro progetto politico. La riforma della politica è quanto avevamo promesso già in campagna elettorale, la riforma della giustizia e come dice Giorgia siamo là per questi cinque anni per realizzare il nostro programma. Quindi questa è una delle tappe fondamentali del programma politico di Fratelli d'Italia e stasera avrete modo di conoscere ulteriori sviluppi di quella che è l'evoluzione della legge stessa.